Lunedì, di nuovo lunedì, di nuovo la scuola. Tutto sempre uguale, Kenny. A volte mi sembra di vivere in un fumetto animato. Sai cosa potresti fare per uscire dalla routine e cambiare un po' le cose? Chiederle finalmente di uscire! Ehm, e a chi dovrei chiederlo? Dai, non cadere dal pera! Chiedi un appuntamento a... Ellie! Parla piano, Kenny! Non vorrei mica farci sentire. Che c'è? Hai paura che spoileri la tua dichiarazione d'amore? Ma quale spoiler? Anzi, ma quale dichiarazione d'amore? La voglio conquistare con le mie battute e freddure. Quando vedrà quanto sono bravo, sentirà qualcosa nascere dentro di lei. Il mal di pancia? No, amico. Divertimento, curiosità, ammirazione e magari il desiderio di conoscermi meglio. L'umorismo serve anche a questo. E dai, scherzavo. Lo so benissimo che a colpi di freddure stendi chiunque. O seduci chiunque. Fai le migliori battute della scuola. Eh già, meglio dei pallavolisti e tennisti. Non c'è nessuno che possa competere... Ma che? Ma chi? Ma guarda come hanno parcheggiato i genitori di quello. Ma lo hai mai visto prima? Mai, non mi sembra un simpaticone. Speriamo che non sia in classe con noi. La speranza di Pera sarà l'ultima a morire? Chi è quel biondone che non dice nulla? Pera, quando chiederà a Ellie di uscire? Kenny morirà? Lo scoprirete nel mio nuovo libro. Sfida all'ultima battuta in tutte le librerie, fumetterie e online. Sfida all' Ancient